Violenza nel carcere San Pio X a Vicenza. Ancora un'aggressione, ancora vittime, gli agenti di polizia penitenziaria. Nella casa circondariale di Vicenza, dall'inizio del 2024, in due settimane, sono già tre gli episodi destinati a far discutere. L'ultimo poche ore fa, quando un detenuto, già noto per altri casi di violenza, ha picchiato con una sbarra tre agenti che sono finiti all'ospedale. La furia del detenuto esplosa perché pretendeva di avere una camera singola che però era inagibile. Gli agenti hanno provato a calmarlo, ma l'uomo ha staccato un'asta d'acciaio dal letto rotto perché già usato per sfondare la porta della cella. L'USP del Triveneto, il sindacato di polizia penitenziaria, a fronte delle continue aggressioni, chiede una nuova classificazione della casa circondariale di Vicenza che nel corso del tempo ha modificato la struttura penitenziaria e la tipologia dei detenuti. La questione va risolta urgentemente dalle istituzioni politiche e la consigliera regionale Silvia Maino, pochi giorni fa, commentando le prime aggressioni del 2024, era tornata a proporre di dotare la polizia penitenziaria di Taser. Nel 2022, a settembre, si contano 9 aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria e 14, ripeto, 14 manifestazioni di protesta collettiva. Gli agenti non si sentono sicuri e con il Taser, che è un elemento di grandissima deterrenza, perché consente da 3 a 9 metri di poter intervenire senza causare danni fisici al detenuto, potrebbero lavorare e sentirsi più in sicurezza nel loro ambiente. Grazie a questo governo, finalmente, ogni casa circondariale ha avuto il suo direttore in servizio stabile. Parliamo di Vicenza, Venezia, Padova, Ruvigo e Belluno. Adesso è ora di passare al Taser, è ora di garantire agli agenti di polizia penitenziaria di lavorare in sicurezza.